E allora, 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 allora E allora odino i due un bel giorno verrà giù Da quella scala mobile Perché bisogna che qualcuno prima o poi si metta in testa il musico E poi qualcuno lo odierà E tutto il mondo griderà Che è meglio il musico Da da dai 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 Da da dai Da 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 dai da dai dai dati